Buona domenica, oggi per i servizi al cittadino parleremo dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Quest'indennizzo è una prestazione economica concessa ai soggetti che svolgono l'attività commerciale e che cessano di lavorare senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. È stato introdotto in via temporanea nel 1996, ma solo con la legge di bilancio del 2019, dal 1 gennaio 2019 è diventata una misura stabile e strutturale e l'indennizzo è finanziato con la liquida del contributo aggiuntivo del 0,09% fino ad esaurimento delle risorse del fondo istituito nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali delle esercenti delle attività commerciali. Come vediamo dalla grafica, l'indennizzo spetta ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli agenti e rappresentanti di commercio. Vediamo adesso quali sono i requisiti. Dal 1 gennaio 2019, un requisito è che questi soggetti devono aver cessato l'attività commerciale e riconsegnando al comune la licenza o l'autorizzazione e richiedendo la cancellazione alla Camera di commercio e al re, al repertorio economico amministrativo. Vi è un requisito di età, i soggetti devono aver raggiunto se uomini i 62 anni o se donne i 57 anni. Un ulteriore requisito è che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti almeno da 5 anni nella gestione speciale dei commercianti. Per quanto riguarda la misura, la misura è pari al trattamento minimo previsto nella gestione dei commercianti e per l'anno 2019 questa misura è di 513,01 Euro. Le modalità di erogazione sono identiche all'erogazione delle prestazioni previdenziali e pensionistiche per la gestione degli esercenti delle attività commerciali. Come vediamo dalla grafica, la domanda può essere presentata direttamente dal cittadino accedendo al servizio online, tramite i patronati, tramite gli altri intermediari dell'istituto o tramite il conto assente del 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile. La durata dell'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile prevista nella legge in vigore nella gestione dei commercianti. Concludiamo con le cause di incompatibilità. L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, sia subordinata che è occasionale. Nel caso in cui il soggetto riprenda un lavoro autonomo, subordinato e occasionale cessa l'indennizzo e nel caso in cui viene a cessare anche quest'ultimo lavoro l'indennizzo non può essere ripreso oppure presentare un'ulteriore domanda. Infine l'ultima causa di incompatibilità che l'indirizzo non spetta nel caso in cui richiedente il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia. Grazie ancora e buona domenica.